bene amici abibati tech channel non so se riuscite a sentirmi ma oggi volevo mostrarvi questa trivella in funzione che sta appunto trivellando qui nella costruzione del nuovo campus di milano leonardo purtroppo non si riesce a vedere effettivamente la trivellazione ma è comunque uno spettacolo per questo breve video è tutto un saluto e al prossimo video che sarà una vera bomba davvero questo video stay tuned perché sarà una vera bomba al prossimo video un saluto dal bivatti tech channel ciao 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 ciao